Proviamo senza chiasso, una cosa perché abbiamo un impianto piccolo piccolo come i bambini e non dobbiamo sforzarlo altrimenti non è più musica. Questa la dedico a Mario Fabiani, l'ho visto piacere, la signora l'ha capito, ti ringrazio. Tutti insieme a me, ripetete. Ok, me l'avevano detto che eravate vicini. Più fuoco ragazzi, più fuoco, il blues, ripetete conjunction. Stop, il paio è chiaro. come sono cresciuti amici come prima non distraeteci vai sulle mani Vediamo se ci sentono all'inizio del poeta, vai! Oh, oh, oh! Eh, eh! Eh, eh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Ali, Ari, Ari, eh! Oh, eh, eh, eh! Poi se... Ok, lì al banto weiji Weii Eh! Guarda come gli dicetevi bene solo in creditia κι 在音 אם Mi rivolgo alla maga Circe, Circe trasformali tutti i maialetti tranne la nave, la nave è bella perché ci guarda, io veramente ringrazio la nave perché senza di lui non ci sarebbe la mela e senza la mela non avrebbe fruttato questa serata. Quindi farei un applauso a tutta l'organizzazione dei Vigili Urbande, no l'ho detto apposta perché c'è da spegnere il fuoco qui al bar, a proposito di spegnere il fuoco potrei avere anch'io una birra, bastardi, almeno Drer. Mi rivolgo a San Nicola, San Nicchi, grazie, ecco che la porta direttamente, guarda quanto spreco, mandare una nave, siamo in Italia ragazzi, mandare un vaporetto. Ah donna che bello, perché non sei mio padre? Con il cellulare la mattina quando ti alzi lo guardi e gli dici caro cellulare da oggi in poi prometto di starti a guardare un'ora al giorno, tutto il resto del tempo lo passerò a guardare il cielo. Perché se io non guardo il cielo e guardo te, il mio cervello rincoglionisce del tazzo. Quindi, caro cellulare, ti stringo la mano e quel bambino che sale verso il cielo è il significato di quello che io volevo dirvi stasera. Auguri di cuore. Auguri di cuore. Auguri di cuore. Allora se vi va, se vi va, se vi va, eh, se non voglio costringere, se vi va sono 20 euro a testa.